Nervosismo, energia. Tutti gli speaker ne sono normalmente affetti. Anche i professionisti, quando devono parlare in pubblico, hanno sempre un po' di tensione dentro. E chiariamo subito, è una cosa positiva. Se non ci fosse, saremmo spenti. Probabilmente faremo delle presentazioni insignificanti, blande, senza alcun eccitamento per l'audience. Quindi l'energia è una cosa positiva, però dobbiamo stare attenti perché può uscire da noi o sotto forma di nervosismo o come entusiasmo e passione. E ovviamente la prima è indesiderabile, mentre la seconda casistica è quello che vorremmo. Dipende però da noi. O la utilizziamo di fatto o l'energia utilizza noi. Dobbiamo combattere il nervosismo e allo stesso tempo cercare di portare fuori il nostro entusiasmo. Come possiamo combattere la tensione nervosa? Beh, un grande consiglio è quello di arrivare il prima Danni facciate, Grazie.